bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video della rincorsa dei gamberetti verso la conquista del mondo signori miei allora allora dove eravamo rimasti allora eravamo rimasti che avevamo fatto delle ricerche su dei giocatori svincolati da poter al mercato da poter comprare e non ci sta nessuno ottimo perché non ci sta nessuno non sarebbe mercato allora aspettate un attimo mi devo ricordare come come si fa perché da un po che non gioco a fifa e allora noi avevamo delle dei giocatori offerta lezione resoconto finale ecco questi di qua perfetto questi che diciamo sono accettabili luis baccaio code l'esterno destro impronunciabile l'innominabile il nostro partiere innominabile già guardate come ci guarda male erasmus che 29 anni non è più giovanissimo e furman che comunque un cc da valutare perché forse farà forma nel luis forse sarebbe meglio prendere furman anche se c'è a 31 anni lui se ne ha 22 però diciamo c'è un po di differenza di overall allora facciamo una cosa avevamo questi giocatori che avevamo noi seguito aggiungiamoli tutti quanti al nostro lab mercato aggiunge al lab mercato e li aggiungiamo tutti lì così ce li abbiamo già pronti e li seguiamo più facilmente dopodiché andiamo avanti fino al primo di agosto e dovrebbe arrivare il nostro osservatore il nostro osservatore diciamo quello che abbiamo mandato non mi ricordo dove forse scozia poi se ne abbiamo mandato scozia vediamo se ci porta qualcuno di interessante se non ci porta nessuno interessante considerando che il campionato è alle porte considerando che il campionato è quasi alle porte no la prima partita non ce l'abbiamo subito ora praticamente sì e infatti il 3 luglio già inizia il campionato signori miei e noi dobbiamo partire subito con il piede giusto con il piede giusto quindi andiamo avanti fino al primo di agosto andiamo avanti fino al primo di agosto aspettate anzi ci fermiamo interrompiamo la simulazione se lui si sveglia perfetto ok interrompe devi interrompe zio tutto il gioco che fa le cose di testa tua andiamo a fare gli allenamenti alleniamo costoro how hard si allena bene il nostro attaccante haward diventa un 55 fai comunque schifo haward puoi continuare ad allenarti quanto vuoi ma fai abbastanza schifo con tutto il rispetto ci mancherebbe ci mancherebbe se ha guardo guarda questo video cosa che non è impensabile ulk te l'è stata ulk noi abbiamo avuto ulk con il venezia vi ricordate ulk così avevamo ulk tevez è vero però no no non dobbiamo ripetere non dobbiamo comprare gli stessi giocatori che abbiamo comprato a venezia su questo non c'è dubbio e nei commenti mi avevate suggerito di spostare tutto il budget gianni gianni mi aveva suggerito di spostare tutto il budget acquisti in stipendio e vedere di prendere un ibraimovic un cavani non mi ricordo chi altro mi aveva suggerito gianni però raga questa dobbiamo farla con giocatori sconosciuti con giocatori del vivaio con altri tipi di giocatori non puntare sui nomi sui nomi blasonati cercare di crescere in noi stessi cioè cercare di renderla il più fermati 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 il più simile possibile a un qualcosa di realistico vediamo chi ci ha portato il nostro osservatore signori miei vediamo se c'è qualcuno degno di nota allora abbiamo gordon ross 15 anni 51 71 15 anni signori miei quando lo lo recuperiamo a questo no ci serve gente pronta ecco ecco riz ride 15 anni questo è tanta roba questo lo ingaggiamo ci ha 15 anni ma lo mettiamo dentro malcolm mcneill 54 lette pepe 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 tutti i quindicenti sono non ci interessa 59 79 queste questo non sembrerebbe malaccio che cosa fai nella vita zio non si sa aspettate un attimo che mi è partita la suoneria nel telefonino aspettate un attimo imprevisto tecnico tattico che però dico ci sta non facciamo più le live e le dirette ma gli imprevisti tecnica tecnico tattici ci stanno allora io questo lo ingaggerei così lo vediamo un attimino più da vicino perché non sembrerebbe malaccio e invece barry petterson tu sei brutto forte c'hai un buon overhaul ma sei brutto forte zio ti devo rifiutare mi dispiace va bene allora andiamo a vedere quei due che abbiamo preso andiamo a vedere un attimino quello chi è questo raga goobles lo voglio ma c'ha mezzi capelli neri e mezzi biondo ma come come sei combinato zio ma chi sei ma ti voglio cioè sei 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 no ma io ti voglio scusatemi aggiungiamo la lista seguilo lui per forza c'è un personaggio così è un personaggio willem goobles goobles ma sei un mito no 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 goobles l'eroe del del nostro dei nostri gamberetti l'eroe del nome dei nostri gamberetti allora ritorniamo sulla retta via abbiamo preso un attaccante destro di 15 anni no un coc 52 72 94 di 15 anni che non possiamo portare in prima squadra ok e poi abbiamo preso lucas wilson 56 con un overhaul 59 79 fa abbastanza schifo anche perché io le ali non gioco con un modulo in cui c'è bisogno delle ali quindi attaccanti desti attaccanti sinistri non mi servono a niente beh teniamolo lì teniamolo lì e teniamolo lì magari ce lo possiamo vendere io direi di andarci a prendere questi qua signori miei luis bakayoko delev iniziamo dal portiere è svincolato delega acquisto 5.600 e 9 9 milano andiamo allora andiamo a trattare noi andiamo a trattare noi andiamo a trattare mi sembra un po assai 59 di di stipendio sinceramente mi sembrano un pochino assai o guardate che bellino sul papa maullo allora stipendio consigliato 73 allora io direi importante diciamo che non ci siamo vuole essere titolo cruciale perfetto accettiamo già i quanti anni c'hai 30 anni magari io dico 3 tu dici 1 ma non ci soddisfano che carino e rimuoviamo la cassola recessoria uno stipendio di 41 di 4.500 e 4.500 già è più fattibile andiamo a fare la contro offerta andiamo a levare i bonus e avanziamo l'offerta 4.500 perfetto abbiamo il nostro portiere poi abbiamo un td che ci serve come il pane un td che ci serve come il pane e ci andiamo a prendere contatta per acquistare no lui è passato un'altra squadra mannaggia ci siamo giocati il td ci siamo giocati il giocatore si è appena trasferito quindi lui lo possiamo togliere poi abbiamo louis dell'eve dell'eve ancora libero dell'eve ancora libero valore ok contatta per acquistare questa fase di mercato importante raga noi non abbiamo una lira non abbiamo minimamente una lira quindi dobbiamo per forza andare su questi tripi di giocatori perché c'è cantona lui vuole fare cruciale è inutile che pensiamo a modificarlo tanto non si mette perché c'è cantona c'è cantona come 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 procuratore tre anni da meno tre anni così non c'ho pensieri e contento meno male che contento ignoriamo la causa della recessoria 4.000 mi sta bene mi affaio la contro offerta rimuoviamo i bonus avanziamo l'offerta 4.000 sono buoni non era esattamente perfetto abbiamo un altro esterno destro poi direi erasmus che un attaccante da 69 no non è stato comprato pure lui mannaggia non lo posso acquistare vero mannaggia a te abbiamo perso troppo tempo togliamo erasmus goobs ci sono novità su goobs è un giocatore nel vabbè aspettiamo per goobs aspettiamo e poi fra furman e luis direi andare a prendere no furman ha cambiato è stato acquistato pure mannaggia che mercato pieno di colpi a vuoto furman l'abbiamo perso pure mannaggia allora togliamo un furman e prendiamo luis 61 contatto per acquistare non è questo granché però dico andiamoci a prendere forma andiamoci a prendere forma su di loro noi costruiremo il nostro il nostro esercito di gamberetti signori miei il nostro esercito di gamberetti allora importante direi dico che ti va bene magnifico perfetto forse vogliamo dargli anche turn over quattro anni di contratto va bene quattro anni di contratto il nostro papa maullo gli vanno bene proprio maullo ignora lui vuole la cosa la recissoria nega causa la recissoria no avanti con la trattata meno male chi ha questo aspetto lui ne prende teneto 25 25 con bonus di ingaggio di 10.000 penso che ti piaccia no ci siamo mi sembra un'offerta equa forse gli ho dato pure troppo vabbè vabbè dai meglio di niente tutti Grazie a tutti.